Ad accertare la violenza sono stati i medici dell'ospedale dei bambini di Palermo. La piccola di otto anni era stata accompagnata dalla madre al pronto soccorso. Dal referto medico sono partite le indagini condotte dalla polizia. Gli investigatori hanno ascoltato il racconto della piccola. Secondo gli agenti a compiere gli abusi è stato un cugino della vittima, un giovane di 19 anni. La polizia lo ha arrestato e portato in carcere. Il provvedimento su richiesta della procura è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari. Momenti di tensione si sono registrati davanti all'abitazione delle 19enne quando sono arrivati gli agenti per arrestare.